Casa indipendente, strada chiusa, sala, cucina, due camere, bagno, garage e cantina, tutta sul piano terra, in zona San Rocco. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa indipendente in vendita. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!